A poche ore dai festeggiamenti del 25 di aprile, festa della liberazione, di nuovo un atto vandalico al monumento dei caduti nel comune di Laterina, Pergine-Valdarno, è stato rubato il tricolore. A darne notizia è il sindaco di Laterina, Pergine-Valdarno, Simona Neri, con questo video. Una comunità si basa su simboli e valori condivisi. Il valore della liberazione dall'oppressione nazifascista è un elemento fondativo della nostra Repubblica. Non a caso ieri, come tutti gli altri sindaci d'Italia, di qualsiasi colore politico, ho reso omaggio come sindaco ai monumenti e ai caduti presenti in tutto il nostro territorio comunale. Ecco, purtroppo, come è già avvenuto, tra l'altro, con le stesse identiche modalità, già nel 2019, qualche sconsiderato stanotte ha rubato le bandiere che ieri erano state poste a fianco del monumento ai caduti a Laterina. Io non so se sia una coincidenza il ripetersi dello stesso fatto. Non so se questo furto sia dovuto a ragioni politiche o semplicemente all'idiozia di qualcuno. So per certo che questa amministrazione comunale, unitamente all'Associazione Combattenti e Reduci, ovvero i proprietari di queste bandiere, sporgerà formale denuncia per furto e velipendio alle istituzioni. Vi garantisco che faremo di tutto, utilizzando ogni mezzo, perché il o i responsabili di questo atto gravissimo vengano perseguiti. Basta! Zero tolleranza verso chi non ha rispetto della bandiera italiana e dei nostri caduti, che grazie al loro sacrificio hanno permesso anche a queste persone di vivere in democrazia e libertà.